Diritto allo studio e difficoltà a pagare la retta all'Università dell'Insubria ha lanciato un nuovo sistema contributivo. Non tutti hanno la possibilità di intraprendere l'università. Diciamo che l'Insubria non è sicuramente una di quelle che a parametro con altre università costa di più, però comunque l'impegno economico, l'esborso economico che deve fare una famiglia è elevato. Un terzo degli studenti con la riforma delle tasse universitarie rientra nella no tax area e dal prossimo anno accademico premio al merito per i più bravi. Abbiamo esteso la fascia di ISEE per cui non si paga niente fino a 22.000 euro, quindi gli studenti che hanno fino a 22.000 euro di ISEE pagano solo la tassa di iscrizione che è di 156 euro e questo vuol dire che un terzo degli studenti non pagherà tasse. Poi abbiamo rivisto tutte quante le fasce per avere una crescita molto lenta fino a 65.000 euro quando la fascia, oltre i 65.000 euro di ISEE, il costo rimane costante. E in più abbiamo istituito dei premi al merito per cui il 20% dei ragazzi che stanno nella fascia top del rendimento calcolato sulla base del numero di esami che ha fatto e del voto che ha preso negli esami e dei crediti che vale ogni esame riceverà un premio di 350 euro. Questo significa che complessivamente in termini di tasse universitarie versate all'insubria gli studenti risparmieranno circa un milione di euro e sono oltre 400 quelli che hanno partecipato questa mattina all'open day delle lauree magistrali il 70% in più rispetto allo scorso anno. A livello successivo, quindi dopo la triennale, c'è la possibilità di una magistrale oppure di un master e qua forse la scelta economica è un po' più importante perché il master costa di più. Durante l'open day presentata anche la nuova laurea magistrale che con sede a Como completamente in lingua inglese si propone di formare i futuri manager del turismo con attenzione alla sostenibilità e alla tradizione culturale prima ancora del lavoro e lo studio per qualcuno il vero banco di prova. Il consiglio che posso dare è di non fermarsi subito al primo ostacolo che la vita ci mette davanti ma di provare, tentare e alla fine è questo il metodo per poi trovare la nostra via per il nostro futuro.